Cosa è cambiato per voi della ristorazione? Allora certo, è stato un periodo duro, come per tutti quanti ovviamente, soprattutto noi della ristorazione, insomma abbiamo avuto una bella batosta. È chiaro che adesso dall'ultimo allentamento di restrizioni che ci sono state, diciamo che si sta lavorando un pochettino in più. All'inizio avevamo l'asporto, quindi questa tipologia del caffè in plastica, consumato fuori, diciamo che eravamo abbastanza vincolati. Poi piano piano con il poter servire all'aperto, quindi avendo la terrazza abbiamo già iniziato a vedere insomma qualcosina e ora grazie a Dio che possiamo servire al banco e anche ai tavoli all'interno, diciamo che il lavoro è ripreso. I vostri clienti cosa vi dicono? Ma diciamo che sono contenti perché sembra di ritornare alla normalità, insomma, ecco, alla vita di prima che comunque ci manca veramente tanto a tutti quanti. Poi anche nella bella stagione che adesso, insomma, siamo... Ecco, a proposito di stagione, ecco, come si prospetta quest'estate qui in questo territorio e qui siamo ad Amantea? Sì, siamo ad Amantea, siamo località sul mare, bellissima cittadina, ovviamente invito chiunque a venire, insomma, a visitarla. Ecco, come ci prospetta? Sicuramente positiva e mi auguro di trascorrere, di avere comunque un'estate serena lavorativamente parlando e anche ovviamente per gli ospiti che comunque verranno qui, insomma, da noi. Sicuramente sarà più sicura rispetto all'anno scorso perché quest'anno abbiamo anche i vaccini che comunque stanno andando abbastanza velocemente, quindi già questa sicurezza in noi ci fa sperare, ecco, sì, sì, sì.